E bella a tutti ragazzi e ragazze e ben ritrovati dalla vostra Croatomist Oggi ragazzi siamo qua con un video veramente particolare Un qualcosa che sinceramente non volevo fare ma ho deciso di farlo perché ho detto Ma si dai Ma spacchiamo la nostra postazione, distruggiamola, demoliamola, ma qual è il problema? Che peraltro sono ancora con il covid però sinceramente mi sento molto 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 meglio Quindi sono molto contenta di questa cosa e ho detto portiamo un video divertente sul mio canale Ebbene si ragazzi oggi faremo la prova a non ridere challenge con l'acqua in bocca Finirà malissimo ragazzi Allora allora cerchiamo un attimo di capire un pochettino la situazione come funzionerà ok? Molto semplicemente Intanto mi sono munita di ciotolina che secondo me è una ciotolina molto piccola ma proverò ad utilizzarla Ho diversi scottex qua sulla scrivania e tutti gli scottex praticamente che mi serviranno per andare a coprire la mia postazione Il tappetino, il mouse, tutto quello che fa parte della mia postazione per evitare di andarla a rovinare ok? Sarà una cosa molto strana da fare, non l'ho mai fatta Ed è proprio per questo che vi invito a lasciare subito un bel pollice rincio a questo video Iscrivetevi al canale mi raccomando e fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete la parte 2 di questo video Mi raccomando dipende solo da voi È molto importante seguitemi su instagram ragazzi Mi raccomando seguitemi su instagram Trovate il mio profilo qui sotto in descrizione Quindi nulla ragazzi semplicemente quello che andrò a fare ovviamente sarà mettere appunto dei video simpatici Di un usual memes qua li guarderò insieme a voi E l'obiettivo sarà quello di cercare di non ridere perché ovviamente avrò l'acqua in bocca Quindi speriamo di non fare danni Ora però non perdiamoci in chiacchiere Prepariamoci che è il momento di andare a ridere Let's go Bene signori direi di iniziare Buona fortuna a me So già che finirà veramente male Bene Onore Alla Spera I had landmarks there After my last name I I I I I I I Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. No, perché ho avuto st'idea di fare sto video con l'acqua? Non potevo fare la... Ottimo, ragazzi. Tutti i capelli completamente... Cioè, ma mi sono sputata addosso. Ma che cosa faccio? Ma che cosa faccio? Cioè, c'era il buco che dovevo centrare. Ho centrato completamente fuori. No, vabbè, ragazzi, ho un problema. Perché sto a fare sta roba? Ma che sto facendo della mia vita? Andiamo, riprendiamo l'acqua. Ti prego, Martina, devi resistere. Sì. 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 Hey there, brother. Do you have time to talk about Jesus Christ today? Oh, your dad? Oh, okay. Well, you have yourself a blessed day. Okay, you too. Ma che cosa faccio fa? Ma che cosa faccio fa? Ma che cosa faccio appena visto? Okay, stavolta non ho sputato fuori. Fermi, fermi, fermi. Ma cosa ha fatto? Ma si è rotto tutto. Vabbè, proprio 1-0-4, ragazzi. Vabbè, però sto resistendo abbastanza bene. Due volte non è tragica la situazione. Non è tragica, non è tragica. Sto andando benone. Sto andando benone. Sto andando alla perfezione. Ma devi essere uno stupido. Ma che cosa fa la gente? Ma hanno problemi. Ma come? Perché avevi una moto in casa? Ma sì. Ah, non era anche... Mi sembra che era un locale. Non era manco una casa. Boh, raga, non ci ho capito niente. Ma perché? Vabbè, la gente è proprio stupida, comunque. Proprio stupida. Va bene, va bene, va bene. Sto andando molto bene. Allora, per essere la prima volta sto andando abbastanza bene. Non giudicatemi, ok? No, raga, ho fatto un casino. No, 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 ho fatto un casino. Ho fatto un casino, ho fatto un casino, ho fatto un casino, ho fatto un casino, ho fatto un casino. Cristo Dio, Cristo Dio, Cristo Dio. Sulla tastiera, ragazzi, a posto. Morta la tastiera per fare un video, ragazzi. Ottimo, GG. Grande, Martina. Sei fantastica. Tutta la tastiera bagnata. Esce proprio l'acqua da so... Vedete l'acqua che scende? La vedete? Brava, Martina. Sei la numero uno. Facciamo un video del genere dove devi ridere con l'acqua in bocca e teniamo la tastiera e il mouse vicini. Ma cosa vuoi che sapo... Cosa può andare storto? Ma figurati, Martina, ma figurati. Ma niente, ma ovviamente niente. Tutta la postazione completamente inondata di acqua. Brava. Brava, Martina. E ragazzi, ci rivediamo da qualche minuto. E l'editor farà un edit particolare perché devo pulire la stanza. Bene, ragazzi. Per la prima motivazione ho dovuto staccare la tastiera perché l'ho letteralmente inondata di acqua. Devo... Se no, stasera di neanche due mesi da ricomprare. Grande, Martina. Ma non importa, adesso procediamo avanti, ragazzi, perché qua la situazione non procede per niente bene. Vediamo se riesco a registrare almeno un altro po'. Ci voglio provare, perché voglio fare un tentativo. Tammie, mi piace Appadue, però Tammie, mi piace Appadue. For so much reason, you can't get a district to Appadue. Is that a bad thing? 27,000 followers later. Oh, man. Move it! Ma che cazzo fa con quel paiale? Ma perché lo stava cioppando? Ma come lo stava facendo? Raga, non ce la faccio più. Mi fa troppo male la bocca, perché a fura di tenere l'acqua dentro la bocca, mi fa male tipo tutta la parte della mascella sotto. Non ce la faccio più. Ho anche fatto un casino, raga, c'ho tutta l'acqua sulla schivania. Ma come che ora stava si fa? Ma io volevo fare un video tranquillo, non volevo stare qua a fare un macello. Ma c'ho pure tutto... No, raga, no, raga, ho l'acqua da... Porca tro... No, ragazzi, non avete idea di quello che c'è sulla schivania. Vi giuro, ragazzi, non avete idea. Devo assolutamente andare a pulire tutto quanto di corsa, perché sennò qua succede veramente il finimondo. Non è andata bene, per niente, per niente. Allora, ragazzi, non è andata per niente bene. Ho completamente bagnato tutta la tastiera, ho anche tutto lo stream deck completamente bagnato in una maniera veramente assurda. Sono piena di scottex, ma non mi hanno comunque salvato la, diciamo, la parte del tappetino tastiera. E in realtà ho preso anche un po' il mouse. Ho fatto un casino, con la sbarretata che ho fatto prima prima, ho fatto veramente un macello. Io volevo fare una roba molto tranquilla, ma purtroppo io sono una che ride facilmente. Poi con sta acqua in bocca che, Cristo Dio, c'ho tipo la mascella che mi stava tipo cedendo, non ce la facevo più. Quindi va bene, va bene, va bene. Se volete la parte 2 di questo video, sempre ovviamente con l'acqua, quindi facendo appunto una challenge particolare, magari la potrei fare anche con Giorgia. Mi raccomando, spoilerci da più, non posto questo video e fatemelo sapere qui sotto nei commenti se volete la parte 2. Quindi dipende tutto da voi, quindi a vostra richiesta. Quindi ragazzuoli, per questo video challenge della prova a non ridere con l'acqua in bocca edition è tutto. Noi ci rivecchiamo ovviamente in un prossimo video ragazzuoli, dalla vostra Cratomist è tutto. Bella a tutti ragazzi. Cioè ho fatto veramente un casino. Cioè è tutto bagnato. Ma che idea del cazzo ho avuto? Ma che idea ho avuto? Perché?